Viaggi con stile per voi di Natura Dea, sempre su Iris TV, oggi per l'Immacolata vi vogliamo presentare Orrido di Bellano, un posto magnifico, diverso nella natura, nella storia e nell'atmosfera natalizia. Per l'Immacolata vi vogliamo presentare Santa, baby, I want a yacht and really that's not a lot Been an angel all year, Santa, baby, so hurry down the chimney tonight Santa, honey, one little thing I really need The deed To a platinum mine, Santa, baby, so hurry down the chimney tonight Santa, cute, and fill my stocking with a duplex and checks Sign your ex on the line, Santa, cute, and hurry down the chimney tonight Good night Good night Good night Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.